Ciao ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video. Questa volta video molto diverso. Siamo a Sestre Levante, siamo partiti da più o meno 9 minuti, abbiamo già fatto la prima pausa. Qua c'è la Franci, riempimento acqua. Fai vedere i panini? Niente, abbiamo panini, acqua, tantissima roba pronti per andare a Pisa. Ok ragazzi, i primi dieci chilometri è andata, prima mezz'oretta è andata, siamo sul Bracco. Com'è? Bene. Guardate che vista. Non si vede niente. Si vede niente? Qui in questo prato avevamo un amico a quattro zampe, un asinello, anzi un'asinella che si chiamava Luna. Asino? Ah, ecco. Attento alla velocità. Ah, ma è finto. Hai visto che è finto? È finto. Buon appetito, eh? Iniziamo a mangiare qua. Siamo quasi a un'ora. Primo pasto. E tu ne ho già mangiate uno. Shhh, non è vero. Punto più alto del nostro giro, secondo me. Siamo al Tagliamento, passo del Bracco. A destra c'è Deiva. Lassù non le vedete ma ci sono... qua ci sono gli alberi, vabbè. Lassù ci sono delle antenne dove partivano i sentiri dove ho fatto un video che trovate qua in descrizione. Ora chiudo che la Franci mi va in fuga. Ecco le antenne. Ecco qui l'arrivo di un sentiero. Probabilmente è Rai Lungo. Non lo so. Non lo sai? No. Mangiamo, va che meglio. Mi aspetto il mio panino. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono tutti segnali che bisogna andare a mangiare, vero? Benvenuti in Toscana. Siamo molto arrabbiati con i cartelli perché sono diversi chilometri che vediamo Pisa 60, poi abbiamo visto anche un Pisa 52, poi di nuovo un Pisa 60. E niente, non arriveremo mai più. Mi sento che nel tempo ci passa. Tanto la gente che si allena ci passa. 100 km ragazzi, ebbene sì, siamo a Via Reggio, passati i 100 km ci siamo anche un po' persi perché siamo andati in una statale, cioè anzi in una superstrada. abbiamo fatto qualche chilometro lì e poi siamo usciti. E adesso attraversiamo Via Reggio, mancano più o meno 25-30 km a Pisa. Ci siamo quasi. Ti piace questa strada? Molto più viareggio, eh? No, molto più tranquilli, no? Ah, ok. Ah, ok. E fuori da ogni aspettativa ce l'abbiamo fatta. Finalmente siamo a Pisa. Sanky, provate tornare là, va? E se deve essere. Grazie mille Grazie mille